Cuccioli stipati in una station wagon in un viaggio della speranza che li avrebbe dovuti portare dalla Bosnia all'Italia in cerca di una famiglia. Purtroppo per alcuni di loro non c'è stato tempo e sono morti stremati dal lungo viaggio. Il carico di animali si era affermato ieri mattina a Padova per una sosta, ma due cuccioli di razza Amstaff appena nati e la loro mamma erano già privi di vita. La polizia era intervenuta nel parcheggio del centro commerciale Comet a Padova S dopo una segnalazione anonima e qui ha trovato l'auto con i cani e un altro mezzo di un'associazione animalista che stava cercando di salvarli portando del cibo. I poliziotti hanno subito portato gli animali, circa 20 esemplari di varie razze, nell'ambulatorio del servizio veterinario dell'USL 16 a Selvazzano. Poi hanno ricostruito quanto era appena accaduto. Il bosniaco era un volontario animalista che aveva liberato i cuccioli da un canile lager del suo paese e attraverso una staffetta di solidarietà con un'associazione animalista italiana stava portando i cani in Italia dove sarebbero stati affidati gratuitamente a delle famiglie. Nonostante le buone intenzioni dell'uomo è stato denunciato per aver trasportato in pessime condizioni i cuccioli, tanto che i più fragili sono morti. Per i cagnolini ritrovati e salvati ora invece è il momento delle cure, due di loro hanno già trovato una nuova famiglia. Per i cagnolini ritrovati e salvati.